Primo giorno di lavoro per il nuovo Consiglio Comunale e prime polemiche. Neppure il tempo di sedersi in aula e il sindaco Giuseppe Sala è stato subito al centro di una prolungata discussione tra maggioranza e opposizione in merito alla legittimità della sua elezione. I lavori si sono aperti con un minuto di silenzio in memoria delle vittime di DACA, incagliandosi però già al primo punto dell'ordine del giorno relativo alla convalida degli eletti. Forza Italia e Lega Nord hanno infatti attaccato frontalmente il primo cittadino, presentando un'istanza con la quale veniva contestata la legittimità della sua nomina. Secondo le opposizioni, Sala non ha mai cessato di fatto le sue cariche di commissario unico di Expo e commissario della società Expo SPA, ricoprendo incarichi incompatibili col suo ruolo di sindaco, presentando tardivamente le dimissioni e senza seguire il corretto ITER. Sulla questione si sono già pronunciati tare consiglio di Stato, dando ragione al primo cittadino, ma secondo Forza Italia e Lega Nord la questione non è chiusa e va ulteriormente approfondita. L'istanza presentata dalle opposizioni è stata però poi giudicata inammissibile dalla segreteria generale del Comune. Alla prima seduta del nuovo consiglio hanno partecipato anche l'eurodeputato e leader del carroccio Matteo Salvini e l'onorevole di Forza Italia Maria Stella Gelmini, che pur avendo anche altri incarichi, sono stati eletti consiglieri comunali e per il momento paiono intenzionati a non dare le dimissioni. Presente in aula anche lo sfidante di sala, Stefano Parisi, che ha assistito alla discussione sulla legittimità del primo cittadino senza intervenire direttamente nella questione. Il candidato sindaco, poi sconfitto del centrodestra, aveva pronunciato un'opposizione ferma ma costruttiva, improntata al dialogo con la maggioranza. L'impressione data dalla prima seduta però è che saranno cinque anni molto animati. col passato lavorativo di sala destinato a incrociare spesso il suo percorso da sindaco.